Allora, premesso che come quello di Rosa, anche mio sarà un intervento un po' tecnico, però poi passeremo la parola a Dario che invece vi farà divertire di più. Ho preparato 11 slide, quindi spero di rimanere nei tempi. Come diceva Rosa, giustamente il problema che abbiamo avuto fino ad ora è appunto quello di un'amministrazione che non è stata efficiente. E quindi, come vorrei strutturare i miei 10 minuti, siccome ci sono dei consiglieri comunali, nonché regionali, volevo anche fare il punto della situazione degli strumenti che l'Unione Europea mette a disposizione, strumenti che possono essere sicuramente finanziari, ma anche organizzativi, quindi per avere una capacità amministrativa migliore. Quello che vedete adesso sono le regioni d'Europa, quindi 250 e più. Vi farò un quadro generale, spero esaustivo, però se ci sono poi approfondimenti o dubbi che volete togliervi, sicuramente i nostri uffici sono sempre a disposizione per inviarvi materiali e rispondere alle vostre domande. Quindi, quali strategie, quali strumenti ci sono? L'Unione Europea, dove vuole andare? E soprattutto come vuole andare? Che cosa sta mettendo a disposizione per andare a rafforzare la capacità amministrativa? A livello strategico, devo dire che è un problema che si sente, non è solo un problema italiano, ma sicuramente noi lo tocchiamo con mano ogni giorno, e se ne sono occupati in ordine di tempo, come vi ho elencato nella slide, la strategia Europa 2020. I semestri europei, cioè le raccomandazioni specifiche del Paese, significa praticamente che nell'agenda del semestre europeo, ovvero i sei mesi che ogni Paese ha a disposizione per presiedere l'Unione Europea, è un tema sempre presente, quello di appunto migliorare la capacità amministrativa. Se ne parla sempre nei fondi strutturali di investimento europei, per quanto riguarda la vecchia programmazione, ma sicuramente è un tema molto presente anche nella programmazione post-2020. Che cosa si intende per capacità amministrativa? Parliamo prima di tutto di un disegno organizzativo, quindi un disegno amministrativo, un'organizzazione di governance, di risorse umane e di risorse strumentali di controllo, cioè l'insieme di regole e di persone che presiedono al controllo dell'azione amministrativa. I target degli interventi, ovvero sappiamo benissimo che ci sono, l'Unione Europea sa benissimo che ci sono dei punti deboli e li elenca, li ha perfettamente compresi, che possono essere dal fatto che le amministrazioni hanno una complessità, possono essere il turnover del personale, che spesso sono molto elevati, c'è una mancanza di una chiara politica delle risorse umane, ci sono problemi sui piani strategici, ci sono capacità di sviluppo dei progetti deboli, ci sono dei settori poco efficienti a causa della scarsa capacità amministrativa e naturalmente come abbiamo visto spesso quando facciamo delle interrogazioni ci sono rischi di frodi e di corruzioni. L'Unione Europea quindi si pone dei risultati per la prossima strategia post-2020 e sicuramente è quello di migliorare la capacità amministrativa con una migliore qualità della spesa pubblica, perché come diceva Rosa, spendere a pioggia non serve a niente, monetizzare la struttura della pubblica amministrazione e lottare contro la corruzione. L'Unione Europea naturalmente per raggiungere questi obiettivi si pone a disposizione delle risorse, queste risorse possono essere di due tipi fondamentalmente, quelle di tipi finanziari e quelle di tipo organizzativo. Quello che a mio avviso è uno dei punti più interessanti che si trova nel nuovo regolamento del 2013-1303, soprattutto per voi consiglieri, è l'obiettivo tematico 11. Che cosa è l'obiettivo tematico 11? Praticamente l'obiettivo dice vuole rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e vuole raggiungere un'amministrazione pubblica efficiente. Quindi siamo tutti d'accordo che c'è questo problema e che quindi dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Come si fa? Ok, grazie. Attraverso l'Unione Europea quindi ci sono degli interventi. In che cosa si traduce concretamente? Prima di tutto in fondi strutturali, ovvero risorse finanziarie. I fondi strutturali quindi sono la maggior parte degli interventi che voi, amministratori locali, potete avere, potete fare per risolvere i problemi del territorio. E dall'altra parte sappiamo che questi interventi e queste risorse costituiscono gli oggetti degli accordi di partenariato, che sono quegli accordi appunto che vengono stipulati tra l'Unione Europea e il Paese membro e i programmi operativi che invece vengono elaborati dalle regioni a livello di ciascun Stato membro. Quindi abbiamo più obiettivi, più strategie e anche delle risorse concrete. Successivamente l'Unione Europea mette anche a disposizione altri strumenti come questi che servono per il rafforzamento istituzionale, che però sono senza capacità finanziaria. Se ho tempo, allora, ve li elenco brevemente. Il Centro di Competenza per lo Sviluppo delle Capacità Amministrative, il primo che leggete, è una struttura organizzativa abbastanza nuova che è stata istituita all'interno della Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea e aiuta gli Stati membri a superare le problematiche connesse al difetto appunto di capacità amministrativa per accelerare l'assorbimento dei fondi. Quindi, voglio dire, almeno teoricamente è perfetta. Poi abbiamo lo scambio di competenze che è uno strumento invece di assistenza tecnica e scambio di informazioni della Commissione e sostiene le amministrazioni pubbliche in materia di ravvicinamento, applicazione e attuazione delle normative dell'Unione Europea, nonché agevola la condivisione delle migliori prassi che ci sono in giro. Soprattutto, che secondo me è interessante, soprattutto per voi consiglieri, il peer-to-peer, che è concepito come la condivisione delle conoscenze tra organismi che giustiziano i finanziamenti e a titolo quindi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e anche del Fondo di Coesione e soprattutto finanzia missioni di esperti, visite studio e seminari. E questo secondo me potrebbe essere uno strumento interessante da utilizzare. Poi abbiamo invece un altro tipo di strumento che sono quelli per gli orientamenti, per le linee guida. E abbiamo i patti di integrità, i toolbox per la qualità della pubblica amministrazione e il toolkit per l'efficacia degli investimenti pubblici. Brevemente vi dico che il primo si occupa soprattutto di trasparenza, cioè è un contratto che l'amministrazione e la Commissione Europea fanno per cercare di rendere gli apparti pubblici più trasparenti possibili e evitare quindi la corruzione. La Commissione Europea ha avviato un progetto pilota che si chiama patto di integrità e meccanismo di controllo e che esamina appunto l'estensione di questo strumento ai fondi strutturali e di coesione. E credo che per molti problemi che abbiamo visto appunto di frodi e corruzioni potrebbe essere uno strumento interessante. Sì, finito. Toolbox invece è una guida per le amministrazioni per il buon governo e quindi esamina diciamo gli elementi cruciali del buon governo e il toolkit invece è un'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che individua i principi per favorire degli investimenti pubblici efficaci a livello governativo. Quindi aiuta diciamo la programmazione in modo che appunto essendo la coperta corta si riesca a capire diciamo l'amministrazione riesca a capire dove è più importante investire piuttosto che no. E quindi è assolutamente anche questo secondo me importante perché dà un metodo per valutare i punti di forza e debolezza degli investimenti effettuati. Quindi per concludere vorrei porvi questo quesito condizionalità ex ante anche per la qualità delle istituzioni. Que cos'è? È un quesito della commissione della commissaria Crezzu che ha posto durante il suo discorso di Lisbona perché la condizionalità premesso è un tema abbastanza centrale che è stato imposto a paesi come l'Italia che l'hanno sempre visto male perché gli interventi dei fondi strutturali sono suscettibili di essere valutati a priori quindi ex ante sulla base di presupposti che esurano dalla programmazione o dall'intervento specifico ma che sono tipicamente dei presupposti macroeconomici. e quindi se noi vogliamo quindi se la commissaria da questa domanda vuole in qualche modo incrementare la condizionalità ex ante anche sulla qualità delle istituzioni significa quindi che ci sarà una valutazione ex ante anche della capacità amministrativa ma questo in un discorso più generale allontana la capacità di autogestione delle amministrazioni nidandola a un livello più alto che significa dare a un livello più alto? significa che le amministrazioni locali o regionali dovranno cercare una sorta di cappello di protezione a un livello più alto e quindi un livello che sicuramente è più lontano dei cittadini e quindi io vi esorto tutti quanti a studiare queste tematiche che sembrano molto tecniche e noiose e delle volte lo sono anche però sono assolutamente importanti per avere coscienza di quello che sta succedendo soprattutto in vista dei prossimi fondi quindi post 2020 che si iniziano a discutere adesso e soprattutto di fare tandem con la regione che ha il potere contrattuale nei confronti degli stati nazionali grazie grazie a tutti